Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi presento la nuova collezione che potete trovare in tutti gli Happy Meal di McDonald's. Prima di iniziare, prima di farvi vedere tutte le sorprese di questa collezione, vi invito fin da subito ad iscrivervi al canale ed attivare la campanellina per non perdervi tutte le news e tutte le sorprese del McDonald's, della Kinder e di tutte le altre marche e per non perdervi tutti i contenuti legati ai videogame, agli anime, ai manga, ai fumetti, ai libri, alle action figure e a tanto o tanto altro ancora. Allora, Warner Bros. Multi vs. Questo è il titolo della nuova collezione McDonald's. In ogni Happy Meal troverete una scatola in alluminio, un foglio di adesivi e un set gioco di carte. Ogni venerdì escono due sorprese diverse, quindi due scatole diverse. E partiamo con le sorprese di questa collezione. Allora, vediamo le scatole di Batman e Shaggy. Di Scooby-Doo. Poi qui vediamo Black Adam e Taz. Ecco le altre due. E vediamo Bugs Bunny, il mio personaggio preferito dei Looney Tunes. Ed ecco qui tutta la collezione completa. Allora, c'è da fare un appunto grosso come una casa. In questa foto noi vediamo due volte Batman, in due colori differenti, e due volte Harley Quinn, anche lei in due colori differenti. In teoria, la serie dovrebbe essere composta da 12 sorprese. Però qui nell'immagine vediamo che mancano alcune delle scatole che vi ho mostrato prima. Quindi è possibile che la collezione sia composta da più scatole, oppure paradossalmente che questa immagine ufficiale McDonald's sia completamente sbagliata. Perché riporta due volte le scatole di Batman, due volte le scatole di Harley Quinn, ma in realtà al posto della scatola di Batman e al posto della scatola di Harley Quinn, in realtà ci dovrebbero essere gli altri due protagonisti Warner Bros. che vi ho mostrato prima. Ma io questa non la farò perché a me piacciono le figure o i gadget, questa robina qui non fa per me. Detto questo, però io vi informerò sempre sulle uscite di tutte le collezioni McDonald's. E non solo, vi invito di nuovo ad iscrivervi al canale, a lasciare un bel mi piace a questo video, a commentare il video, fatemi sapere cosa ne pensate di questa collezione, a condividere il video con i vostri amici, a seguirmi anche su tutti gli altri social network e ad iscrivervi a tutti i miei altri canali YouTube. Trovate tutti i link in the box. E noi, come al solito, ci becchiamo al prossimo video. Ciao belli!